Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi è già ci siamo! Teaser numero 3, rilasciato da pochissimo, non perdiamo tempo! Ragazzi andiamo subito a rivederli molto velocemente. Il primo teaser, quello di due giorni fa, si vedeva un uncino. Il secondo teaser, quello di ieri, si vedeva un cobra, un serpente. Beh ragazzi, sbadan! Teaser numero 3 ragazzi! Come vedete si nota palesemente una forma di un animale parecchio parecchio incazzato. Non sappiamo! Sembra un dragone ragazzi o comunque un animale mitologico, ma quello che voglio farvi vedere ragazzi è proprio questa immagine. Quindi tutti e tre i teaser uniti e come vedete stanno ragazzi creando la forma di qualcosa davvero incredibile. Secondo voi ragazzi, che cosa rappresenta questo teaser? Scrivetemelo qua in descrizione. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, mi raccomando lasciate un bel like, noi ci vediamo in live alle 17! Ciao! E non parte mai l'altro! Ciao! Ciao! Grazie per la visione!